Governo va in minoranza alla Camera dei Deputati, maggioranza senza voti, viene respinto l'emendamento, questo è l'esito della votazione, una risoluzione che riguarda lo scostamento di bilancio. Cosa significa? Sì, perché questo Governo non riesce a tenere, e siamo all'inizio di una legislatura sostanzialmente, non riesce a tenere nemmeno i propri parlamentari, quindi si sono messi a rischio con questo voto quasi 3 miliardi e mezzo di euro, destinati al decreto lavoro. Quindi guardate, è una notizia di poco fa, Camera, maggioranza senza 6 voti, respinto lo scostamento di bilancio, quindi la maggioranza va sotto, non riesce a reggere nonostante abbia molti più di 200 voti, quindi è data sotto i 200 voti, la Camera dei Deputati è composta da 400 deputati, la maggioranza ovviamente, quindi è oltre il 200, questo è ovvio, il centrodestra non è riuscito a tenere in Parlamento, in Aula, i suoi deputati. Quindi che è successo? Questo è l'esito della votazione, sapete che questo è il modo in cui alla Camera si vede il display del voto, ed è accaduto una cosa grave, 3 miliardi, quasi 3 miliardi e mezzo, che dovevano essere destinati al decreto sul lavoro, saltano così perché la maggioranza non è riuscita a portare i suoi parlamentari a votare un suo provvedimento. Quindi un segno sia dell'attenzione, sia del disastro che è in corso. Quindi guardate, ancora meglio, questo è proprio di qualche minuto fa, quindi Camera, maggioranza senza 6 voti, in realtà ne ha persi molto di più di 6, ci mancavano 40-50 deputati, respinto lo scostamento di bilancio, voi avete imparato ormai perché siete tutti esperti, lo scostamento di bilancio è il documento in cui il Parlamento autorizza il governo a fare del debito, sostanzialmente per pagare delle necessità, in questo caso legate proprio al mondo del lavoro. Quindi, qua adesso mi chiede Lucia, quando la maggioranza va giù non cade il governo, purtroppo non su singoli voti, il governo cade solo se c'è il voto di fiducia e al voto di fiducia non ce la fa a prendere la maggioranza dell'Aula, Camera o Senato, basta uno dei due dove salta ed è saltato il governo, però è ovvio che il voto di fiducia, diversamente da questo, è un voto annunciato molto prima, è un voto nominale, quindi si passa e si dice voto sì, voto no, e quindi è molto più difficile che i parlamentari, come dire, siano assenti a un voto di fiducia. Però è un segno di grande difficoltà il fatto che in Parlamento, su una delibera importante, perché lo scostamento di bilancio serve ad autorizzare il governo a prendere le risorse e i soldi, adesso, quindi, mi chiedono cosa votavano Calenda e Renzi, non si sa perché il voto in questo caso è un voto non palese, ma sicuramente hanno votato, anzi, vediamo se il voto è palese o meno, no, è un voto segreto, sì, è un voto segreto, e hanno votato Renzi e Calenda, non lo so, in genere votano a favore del governo, però può darsi che non sapevano, votano quando è un voto segreto, il voto pubblico, loro sono all'opposizione, anche perché se non fossero dichiaratamente all'opposizione non potrebbero tenersi, per esempio, il seggio di Borghi, che è passato dal PD al movimento di Renzi, che si chiama Italia Viva, perché se Italia Viva e Azione non fossero all'opposizione, dovrebbero lasciare alcune postazioni che spettano alle opposizioni. Ecco perché è anche grave fare finta di fare opposizione, perché ci sono alcune cose che in Parlamento spettano alle opposizioni, e quindi è sbagliato fare cose di questo genere. Allora, adesso che sta accadendo? Sta accadendo quindi che c'è il caos, il caos è dentro la maggioranza, perché dicono, ah, ma che è successo? Come mai non abbiamo avuto i voti? Ecco, ve lo faccio rivedere, è proprio di pochi minuti fa, Camera, la maggioranza, senza sei voti, respinto lo scostamento di bilancio. Quindi il Governo è andato sotto rispetto alla necessità di avere su questo provvedimento la maggioranza assoluta. Questo è un provvedimento su cui serve la maggioranza assoluta dei voti. Quindi facciamo capire a tutti. C'è un Governo che vacilla per la prima volta in modo così evidente anche in Parlamento, poi, a dire la verità, è già cominciato storto. Voi ricordate quando Ignazio Larussa era candidato alla Presidenza del Senato e Forza Italia non lo voleva votare e perché è passato? Chi l'ha votato al voto segreto? Adesso si può iniziare a dire, perché l'ha detto Calenda. Calenda ha detto che quelli di Renzi a voto segreto avevano votato probabilmente la russa, perché in cambio volevano un loro esponente alla Commissione di Vigilanza e non darla ai 5 Stelle come si doveva fare. Tant'è vero che ci hanno messo mesi, alla fine hanno dovuto mollare, quindi la Commissione di Vigilanza è andata a Barbara Floride, quindi ai 5 Stelle, ma prima hanno tentato di tutto per farli fuori. Bisogna che vacilla per me, è buono fino a cadere. E infatti è una buona notizia per quelli che dicono che questo Governo sta facendo male e che sta creando un sacco di problemi, perché sicuramente è una buona notizia leggere che, come vi ho fatto vedere, la Camera, maggioranza, senza voti, respinto lo scostamento di bilancio. Guardate, è molto pesante, perché sono 3 miliardi e mezzo che tra l'altro creano un danno, quindi adesso dovranno trovare il modo di rimediare o dovranno rifare una risoluzione, magari al Senato, non lo so, ma al Senato loro hanno ancora meno numeri. Quindi stiamo parlando di una situazione estremamente complicata. A questo si aggiunge un'altra pazzia. Oggi il riformista di Renzi cosa ha fatto? Fa un pezzo e attacca. Non so se ho la foto del riformista che vi posso far vedere, ma la foto del riformista di Renzi dice palesemente che cosa? Dice che Conte è trasformista. Perché Conte sarebbe trasformista? Perché dice che Conte ha detto che la Meloni ha fatto qualche passo avanti nella dichiarazione quando ha scritto sul Corriere che la destra non può riconoscersi nel fascismo. Secondo me ha fatto ancora troppo poco perché o uno si dichiara palesemente antifascista e un presidente del Consiglio, il capo del Senato, quelli delle istituzioni italiane devono avere il coraggio di dichiararsi antifascisti. Ma il coraggio, diciamo la presa d'atto della realtà, cioè la Costituzione italiana è antifascista, chi governa in questo paese deve essere contro le dittature tra cui quella che noi abbiamo subito come italiani che è stata il fascismo. Ma Conte che ha fatto? Conte ha cercato, secondo me in uno spirito come lui, di una persona sempre molto attenta a cercare di essere un gentleman, ha detto, secondo me la Meloni, ha comunque iniziato a fare un passo avanti, che combina il riformista, guardate il riformista che ha scritto, il trasformismo di Giuseppe Conte ora si avvicina a Giorgia Meloni. Ma il paradosso è che il riformista è diretto adesso da Renzi, cioè Renzi che si è appena preso Borghi, che hanno probabilmente votato la russa al voto segreto al Senato, il giornale di Renzi dà del trasformista a Giuseppe Conte. Ma veramente, come dire, a Napoli si dice il buio da conuto all'asino, cioè come dire, Renzi che dice a Conte che Conte è trasformista. Veramente siamo, come dire, al festival delle stupidaggine. E quale sarebbe il trasformismo di Conte? Il fatto che all'inizio il primo Conte era il governo con la Lega ed era, lui non aveva mai fatto attività politica. La prima volta che è entrato a fare un'attività politica è stato Presidente del Consiglio, gliel'hanno chiesto due partiti che erano, tra virgolette, quelli che hanno preso più voti all'elezione del 2018, fa questo governo. Dopo, non molto, è stato lui che ha preso atto di che cosa combinava Salvini e ricorderete tutti voi il dibattito in aula in cui Conte ha smascherato, e dico un termine soft, Salvini. Allora, che fa oggi il giornale di Renzi? Attacca Conte, tanto per capire che giornale sarà, e dice che addirittura Conte si avvicina alla Meloni. Ma scusate, ma Conte è l'unico che sta facendo la campagna sul tema della pace. L'unico. l'unico politico di un partito importante, poi è chiaro, c'è il Papa, che è ancora più importante perché a livello mondiale è un leader mondiale ed è l'unico che martella su questi temi. Conte aveva detto che era importante coinvolgere la Cina. Ieri la Cina ha fatto un gesto che alla fine tutti hanno dovuto apprezzare di cercare di fare come dire un'azione verso la pace. E manda un emissario finalmente a Chiva a discutere, almeno si inizia a discutere ed è paradossale che dobbiamo aspettare un Paese che comunque è una dittatura comunista perché la Cina resta una dittatura comunista che si preoccupa del tema di cessate il fuoco più delle democrazie europee che sembrano completamente prive di una capacità ma un un inviato per la trattativa di pace ma l'Unione Europea lo vuole mandare a Kiev e magari anche a Mosca? poi è chiaro magari non riesce a ottenere niente ma vogliamo iniziare a fare che oltre a mandare le armi o al posto di mandare le armi cerchiamo di iniziare a mandare messaggeri di pace come chiede il Papa? Direi il super bonus le norme fatte dal suo governo ha fatto un buon lavoro perché grazie anche a loro azione e l'impegno anche in Parlamento hanno cambiato hanno messo l'ambiente la tutela dell'ambiente nella Costituzione della Repubblica allora per favore che Renzi nel momento in cui il governo è così in difficoltà guardate Camera la maggioranza senza sei voti respinto allo scostamento di bilancio mentre il governo è in difficoltà Renzi qual è il suo compito da grande esponente dell'opposizione perché poi Renzi è stato votato per l'opposizione quello di attaccare Conte addirittura dicendo che Conte loro cioè Italia Viva e Azio che sono considerate da tutti da tutti una stampella dei del governo ma perché lo fanno nei voti parlamentari accusano Conte per aver detto una frase secondo me come dire di cortesia che è quella di apprezzare che almeno la Meloni stava certo rispetto alla russa la Meloni è sicuramente stata più attenta a capire che la festa della liberazione è una festa doverosa per l'intero popolo italiano quindi poi mi dico non parlare di Renzi e qui un po' però dobbiamo anche prendere le parti di Conte lui farà una campagna o sarà sto giornale per continuare la campagna Conto Conte ma credo che come dire questa campagna è talmente vile modesta sbagliata che alla fine le persone anche quelli che hanno i paraocchi prima o poi si ritorgono e vedono la realtà quindi dice che Isabella dice che sono mancati 25 voti ma sono mancati i 6 necessari per avere la maggioranza assoluta poi è chiaro che sono mancati come ho detto io molti di più perché la maggioranza la camera del centrodestra è sicuramente maggiore di un solo seggio o dei pochi seggi parlamentari ora noi dobbiamo continuare con molta tenace a diffondere elementi di verità e anche a ricordarci sempre lo ripeto anche oggi la vergogna la vergogna di questi cambi di casacca continui ieri era Borghi che dal partito democratico è passato a Italia Viva e si è portato appresso il seggio nel comitato di controllo sui servizi segreti oggi addirittura la notizia è che la Chinnici candidata esponente storica delle battaglie contro la mafia candidata alle elezioni regionali della Sicilia le ultime contro Schifani addirittura passerebbe a forza Italia con Schifani dopo che già era passato Cancellieri che era stato il candidato storico dei Cinque Stelle quindi in Sicilia addirittura abbiamo una sorta di festival del cambio di casacche in questo momento è ovviamente uno degli elementi cardine di tutta questa logica trasformista qual è? è ovviamente la legge elettorale legge elettorale nazionale che purtroppo ispira i peggiori istinti bassi di persone che cambiano partito cambiano casacca con una velocità impressionante ecco perché questa legge elettorale va eliminata io l'ho detto ieri io sto lavorando e per fortuna avremo presto i quesiti proposti dai costituzionalisti per abrogare in modo togliere almeno le cose più indecenti di questa legge elettorale visto che il referendum è abrogativo e non possiamo fare un referendum istitutivo io spero che davvero Conte e il Movimento Cinque Stelle si mettono alla testa insieme a tutti gli altri consiglieri comunali cittadini sindaci di tutti i colori politici perché il fatto che ci sia una legge che non consente di scegliere deputati e senatori è una cosa immorale è una cosa immorale Isabella ci dice anche che sono mancati 11 della Lega 9 di Forza Italia e 5 di Fratelli d'Italia non so se sono solo questi ma se già sono questi significa che ci sta uno scollamento in atto dentro la maggioranza questo è ottimo un ultimo adesso dopo tutte queste notizie parliamo invece di una cosa positiva la cosa positiva è la campagna per la cucina italiana patrimonio UNESCO tra sostenibilità ambientale e diversità bioculturale cucina italiana UNESCO e questa è importante io sarò da dopo domani a un grosso evento a Bari dove si parlerà di difesa del Made in Italy di cose positive noi non vogliamo mangiare carni fatte in laboratorio non vogliamo gli OGM non vogliamo le schifezze delle multinazionali americane e dobbiamo fare assolutamente il lavoro per avere e difendere il meglio quindi c'è un'Italia di questo manicomio che vediamo in Parlamento il vero manicomio ti è piaciuto festival del cambio di di Casacca questo è il festival del cambio di Casacca e adesso però diciamo la cosa importante stiamo lavorando l'Italia finalmente ha candidato la cucina italiana patrimonio UNESCO tra sostenibilità e biodiversità culturale e diversità bioculturale cosa significa? sostenibile perché la cucina italiana con la dieta mediterranea è quella che meno impatta sull'ambiente vuole usare prodotti del territorio prodotti di stagione e quindi è positiva per l'ambiente la biodiversità culturale dimostra che la cucina italiana è una cucina accogliente altro cioè non è è sovranità alimentare ma non sovranismo perché la cucina italiana è frutto della capacità italiana di trasformare prodotti arrivati da dovunque un esempio è il pomodoro che è arrivato dalle Americhe ma anche tante altre contaminazioni perché nelle ricette nella cucina italiana alcuni prodotti alcune cose che noi consideriamo italiane pensiamo al napoletano il babà napoletano in realtà è una ricetta che nasce in Polonia e che grazie alle tante dominazioni del regno di Napoli tra cui anche un re di origine polacca è diventato e poi è stato nessuno saprebbe perché è stato è diventato quello che è diventato a Napoli come anche il pomodoro arriva dal Perù a Napoli riescono a fare la salsa lo trasformano in un elemento fondamentale della pizza napoletana che è fatta anche quella con il pomodoro quindi anche una notizia positiva ricordiamoci le grandi bellezze del nostro paese voi vedete che io spesso metto post raccontandovi anche prodotti tipici perché non possiamo solo lamentarci ma anche valorizzare le cose positive siamo credibili anche quando siamo duri nelle nostre condanne se siamo capaci anche di essere di apprezzare le cose buone che esistono e le cose buone che vengono fatte io vi do un saluto buona serata e ricordatevi di andare sul gruppo Facebook Eco Digital verso il 2050 perché la transizione ecologica e digitale è fondamentale è anche quella della pagina Amici di Alfonso Pecoraro Scania perché vi diamo le notizie e ve le danze Enmo Pellizzi le notizie di quello che stiamo facendo per cercare di dare a tutti coloro che ci seguono sul web la possibilità di diventare anche loro attivisti digitali cioè si può fare attivismo non solo in strada parlando con le persone andando a fare iniziative che devono essere fatte sempre ma anche usando i propri strumenti il proprio strumento i propri social gli strumenti digitali per premere verso le autorità politiche come dobbiamo saper fare con forza ciao ciao a tutti ciao a tutti